Noi dobbiamo pensare a quello che succede dentro lo spogliatoio, dipende sempre come vengono poste le cose e come vengono viste, da che punto di vista le si vuole interpretare o le si vuole fare. Io è dall'inizio dell'anno che parlo di che dobbiamo pensare una partita alla volta e continuo sulla mia linea e dico che noi dobbiamo pensare una partita alla volta, poi il resto io devo pensare a fare le cose che ritengo più idonee, più costruttive per la squadra, per metterla nelle condizioni migliori di esprimersi. Aspetto quello che siamo perché poi le partite, mi aspetto la mia squadra che con degli alti e bassi, con delle difficoltà, tutti insieme, a volte siamo riusciti a esprimerlo al meglio, a volte meno. Poi dopo è chiaro che io faccio l'analisi della partita di martedì, può essere mancato in alcuni momenti quel quid, poi dopo la partita secondo me nell'analizzarla dal punto di vista tecnico, ognuno può vederla come vuole, io dico che abbiamo avuto due palle e gol per fare due gol, che se andiamo in vantaggio noi raccontiamo un'altra storia, però non l'abbiamo fatta e quindi dobbiamo partire da quel presupposto lì, non dobbiamo prendere i gol che abbiamo preso e basta. Perché io ho detto, mi ricordo benissimo in diretta tv, ho detto non dobbiamo vivere di ricordi, poi ci abbiamo ricamato molto sopra su questa frase, sono stati messi dei nomi, dei cognomi, degli indirizzi e dei numeri di telefono, che io non ho fatto, perché per me esiste la mia squadra e quando dico non dobbiamo vivere di ricordi, vuol dire che il signor Mangia non deve vivere di ricordi, che dal primo giocatore col numero 1 al numero, non so qual è l'ultimo della lista, mi sembra il 33 di Rozzi, più tutte le persone che ci sono vicine, non dobbiamo vivere di ricordi. Cosa vuol dire? Che se nella propria carriera qualcuno ha vinto dei campionati, non deve vivere di ricordi, se qualcuno nella propria carriera ha fatto degli euro gol o dei gol in altre categorie, non deve vivere di ricordi, vale per tutti, invece ho visto che sono state interpretate in un unico modo, quello che forse è il caso di piantarla e di interpretare, perché questo è il Bari, la Bari chiamiamola come vogliamo, una squadra di calcio, un insieme di professionisti, non due squadre o due insieme di professionisti. Mi sento un allenatore che è alla quinta, ne campionato, di una squadra nuova e di una squadra che deve lavorare cercando di farlo con il maggiore entusiasmo e la maggior serenità. Se poi dovremmo trovarcela solo dentro lo spogliatoio, la cercheremo e la troveremo solo dentro lo spogliatoio. Se invece l'avremo da fuori, come ho sempre detto, sarà una grandissima risorsa in più. È normale, tutte le piazze, guardate, penso di averne vissute fortunatamente nella mia carriera, tutte per un verso o per l'altro calde, sono piazze che vivono di umori. Bisogna riuscire a indirizzarle nel miglior modo possibile e noi però dobbiamo riuscire a esserne immuni, nel senso che dobbiamo pensare a fare le cose al meglio senza farsi condizionare dal resto. L'importante è che tutte le cose vengano fatte, dette e viste, secondo me, con l'obiettivo. Perché non è che è Mangia che vuole vincere le partite, penso che sia tutta Bari che vuole vincere le partite. Quindi secondo me è giusto che ci si indirizzi tutti su quella prospettiva. Poi dopo, ripeto, è chiaro che è una speranza la mia, poi dopo ognuno è normale che nel mondo fa quello che ritiene più opportuno fare. Però non è che se poi le cose, se si vince la partita ha merito di uno. La partita, la partita, perché io parlo di una partita, la vince un mondo intero. Perché questo è un mondo intero fatto da tante componenti. Loro sono una squadra che è partita, secondo me, molto bene. Molto bene. Ha fatto ottime partite all'inizio. Poi dopo, come tutte le squadre serie B, perché andiamo a prendere i risultati di tutte le squadre serie B, al momento mi sembra abbastanza la fotocopia del campionato dell'anno scorso, dove una squadra una settimana vince, la settimana dopo va in difficoltà, poi si riprende. L'anno scorso ci fu solo una squadra e mezza, poi, che diventarono due, che trovarono a un certo punto la vera chiave di lettura, la vera pepita d'oro, che si chiama continuità. La continuità a volte è muovere la classifica, perché uno dice, se facciamo un punto qui e un punto lì, adesso guarda dove erano. Già adesso qualche squadra lo potrebbe dire. Quindi dobbiamo pensare a quello, che è una cosa, in questo campionato, determinante. Loro sono una squadra che poi ha trovato una difficoltà di una partita in casa molto particolare, poi hanno fatto bene a Brescia l'altro giorno. È una squadra con delle caratteristiche anche queste ben definite. Giocatori molto veloci davanti, non è una squadra che rischia molto, però è una squadra che prova, come l'anno scorso, è una squadra che prova a giocare e prova a mettere la partita sui binari che preferisce.